questo è un ritardo, ah ecco, una diatomea grazie c'è l'amantica religiosa, ah mi hai toccata l'amantica religiosa, dai, e poi c'è un bruco, guarda che bruco qua vado a calma, vado a calma, vado a calma, che te fa, secondo te è un femmine o un maschio questa? è una femmina perché è grossa i pazzi, bravo, infatti ieri c'era pure il maschio ma non c'è più, chissà che fine ha fatto se l'hai mangiata la femmina, lo sapevi? ah, no, negli insetti no, invece se ti vuoi divertirsi a guardare un po' d'acqua al microscopio, anche se non c'è un granché, te l'hai guardata al microscopio? si, questo è con le grossa lì ah, allora accendiamo però ci sono, ah, si, abbassa i decattamenti, non piace più queste sono le alghe che vedi lì, poi divertendosi a, diciamo ma non c'è quello, fa più se non è che è amante della religiosa, si è messa in posa mi vedi, sta pregando mi sa che conviene prendere quello femmina perché il maschio è più piccolino e si è mangiato lì ci sono dei resti lì, ecco ma l'hai mangiato? si, si, ci stanno i resti delle ali, ecco questo è quello che rimane del maschio di ieri oh, oddio è anche la zampa, vedi, prova la fa vabbè, li è venuti pure i piccoli poi no, e questo è un bruco, lo conoscete? se io lo tocco questo bruco dovrebbe tirar fuori, vediamo un po', eh, se lo disturba abbastanza no, non è disturbato abbastanza due sorti di corna arancioni come per dire, attenzione per far paura che però in realtà papà, 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 papà oh, invece, amante e si è mangiato marito chiede ah, quindi sai i resti? adesso, per toccare vedete, se l'hai presa? si, adesso la metti qua di sopra basta, basta, basta c'è, c'è eh, no, questa può essere solo sabbia poi che si fa? questo sottovaso che avete trovato se incavola se lo trovo, guarda ah, ma sei un po' pauroso tu, eh vediamo se incavola, guarda bisogna, un po' se vediamo se incavola se dentro questo sottovaso abbiamo trovato bisogna dire quant'è che c'è l'acqua là, capito? andiamo facendo conoscere allora, chiudiamo qua, se no l'amante ti prende il volo qual'è l'amante? eccola, no, scusa, hai già perso il coraggio eccola qua, vai eccola qua vai, vai, tocca, vai piano piano, così non è che ti dà... no 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 se l'hai mangiata ieri lo sai che la femmina mangia il maschio ti ho sentito su un documentario ah, hai visto? parliamo aspetta, ma va stavo ancora cercando quel... come hai sentito? se il primo mazzetto e il mio si entrava proprio ho lasciato la pezzola per terra e si entrava si 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 si